Voglio presentare insieme a te un'amica che conosci, ho avuto l'opportunità di presentarla e premiarla in un festival che ho presentato a Sanremo ma lei ama la sperimentazione ed è per quello che è qui con noi a Sanremo Rock and Trend, Alice! Per ritrovare a sbocciare in noi l'essenza per l'unione Dimmi di sì, amore, scaldami, non lasciarmi scindolare Dimmi di sì, amore, abbracciami, non lasciarmi scindolare Dimmi di sì, amore, scaldami, non lasciarmi scundi Sì, amore, scaldami, non lasciarmi scundi C'è l'è vita, che rischia, ci rischia, dimmi di sì Quanti segnali ogni giorno ho per riconoscere Nell'ordine delle cose, l'elemento che ci muove Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Sciogli la corda che blocca il gesto e il senso di complicità Tu sei nel alba, tu sei nel alba, tu sei nel alba, tu sei nel alba Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Non abita più qui E il sole che ci bagna fa risaltare l'opera di ciò che siamo Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai Diggi di sì, amore, attracciami e non lasciami mai al nostro pubblico, cioè al tuo pubblico, al nostro, perché questa sera è qui con noi. Volevo parlare anche del tour, hai fatto God is my DJ, questo tour particolare nelle chiese e nelle cattedrali italiane. Come è nata l'idea e che cosa ne è venuto fuori? Era stata un'esperienza partita da una proposta che è diventata poi una ricerca, una proposta che era legata appunto a un programma di musica sacra, che è diventata una ricerca del sacro nella musica di oggi ed è sfociato appunto in questo programma che abbiamo chiamato God is my DJ, abbiamo lavorato Francesca Messina ed io. Devo dire che il risultato è stato così esaltante, il pubblico l'ha accolto talmente bene, che abbiamo pensato di riproporlo in tournée nell'estate che stava. Ah, quindi ripeterai l'esperienza. Comunque non erano chiese sconsacrate? No, come no, anzi devo dire che il contesto era straordinario. Io so del grande successo a San Marco, no? Chiesa strapiena. Sì, anche a San Marco, sì, a Milano e poi anche a Napoli, è stato ovunque comunque. Chi se l'è perso comunque ha una chance perché ritornerà a maggio questo tour. Sì, a luglio ed agosto. Ok, senti, voglio approfittare di te per presentare insieme il prossimo gruppo, i Nomadi. Conchieri. L'ho presentato, i Nomadi.